Lo scorso fine settimana a Sarno si è tenuta la solenne cerimonia di investitura di nuovi cavalieri e dame del supremus civilis et militaris ordo templi ierosolomitani millozionali. L'evento ha visto la presenza di autorità religiose, istituzionali e politiche, tra queste il sindaco di Sarno Francesco Squillante, il vice sindaco Ida Mareschi, l'assessore Stefania Pappacena, il presidente del consiglio Giuseppe Sodano, la delegata agli eventi Anna Maria della Porta e il consigliere comunale Gino dello Iacono. Presenti anche la dirigente scolastica dell'istituto Amendola di Sarno, Antonella Esposito, la protezione civile con il responsabile Giovanni Calabrese. Folta la presenza delle forze dell'ordine con gli ispettori della polizia ed i vigili urbani che hanno garantito il servizio d'ordine lungo il percorso e durante la cerimonia. Con i cavalieri templari hanno presenziato e sfilato anche i membri dell'associazione Cavalieri della Bulla Pontificia. La cerimonia è stata organizzata dal Gran Balivato della Campania, guidato da Francesco Severino, ed è stata presieduta dal Gran Maestro dell'Ordine Supremus Civilis et Militaris Ordo Templi Ierosolomitani 1804, Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali Roberto Amato, dal Gran Priore d'Italia dell'Ordine Rosario Nicola Luisi. Durante la cerimonia, organizzata dal commander di Sarno e Balivo del Lazio Pasquale Falciano, sono stati investiti i nuovi cavalieri entrati nella commanderia di San Michele Arcangelo e Uriel, Generosa Raffone, Pamela Di Nome, Patrizio Barbuti, Manuel Amboglia, Vittorio Gallo, Giovanni Verrengio, Samuele Chiappetta. L'appuntamento a Sarno è giunto pochi giorni dopo un altro importante appuntamento dei Cavalieri Templari del Supremus Civilis et Militari Sordo Templi Ierosolomitani 1804, Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali, che hanno avuto l'onore di scortare la reliquia di San Vincislau, patrono della Repubblica Ceca e della Bohemia a Praga.